Buona giornata amici di Fano TV, oggi è martedì 8 novembre 2022. Ben trovati dunque alla rassegna stampa, leggeremo insieme i giornali quotidiani questa mattina con pagina locale, il resto è Calino e il Corriere Adriatico e iniziamo subito con l'almanacco e vediamo chi è il santo del giorno. Oggi si festeggia San Goffredo di Amiens, un santo francese contemporaneo di Goffredo di Buglione. Anche lui aveva questo nome, ma mentre Goffredo di Buglione era un uomo d'arme e Goffredo di Amiens era un uomo di chiesa. Sacerdote, abate, vescovo, fu soprattutto un uomo di pace, visse una vita morigerata, lontano dal lusso. Quell'usso è che invece contemperava la vita dei vescovi nominati dai feudatari, fu amato soprattutto dal popolo di cui fu uno strenuo difensore contro gli abusi dei signorotti locali. Dunque San Goffredo di Amiens, che si chiama Goffredo, oggi celebra il suo compleanno, il suo nomastico, scusate. Vediamo invece le previsioni del tempo. Ecco la grafica della nostra regione. I cieli sono in prevalenza sereni tutta la giornata di oggi o poco nuvolosi. I venti saranno al mattino moderati, da sud ovest al pomeriggio moderati da est e sud est. Il mare è quasi calmo, le temperature oscilleranno dai 9 ai 17 gradi. Ed ora dammo un'occhiata anche alla città che si sveglia. La città di Fano, ecco il Pincio, ancora qui deserto. Il Pincio è la porta principale di entrata della città, dove ci sono reperti di tipo archeologico, sia dell'epoca medievale che dell'epoca romana, una delle zone più belle della città di Fano. Ed ora apriamo il giornale oggi a partire dalla pagina di Fano del Corriere Adriatico. Si parla di un consuntivo che i vigili urbani, la polizia locale, ha fatto della propria attività nei primi dieci mesi dell'anno in corso. Spica subito il dato dei verbali che sono stati elevati per eccesso di velocità. Quattro autovelox posizionati nelle strade di maggior traffico, come la statale Adriatica Sud nel tratto di Metauriglia e la provinciale Flaminia nella zona urbana di Cucurano, hanno rilevato un comportamento quasi abituale degli automobilisti che superano i limiti di velocità. Sono tratti pericolosi che hanno giustificato le proteste degli abitanti. Ricordate la protesta dei teli rossi a Metauriglia, ma anche le proteste degli abitanti di Cucurano, che purtroppo hanno visto molti incidenti, anche alcuni con delle vittime nella loro strada, strada che attraversa un tratto urbano, le case proprio fronteggiano il fronte strada e quindi non ci sono poi molti spazi per proteggere i ciclisti, per proteggere i pedoni. E quindi oggi gli autovelox svolgono una funzione sia repressiva per chi ancora non rispetta i limiti, sia deterrente per chi coloro, insomma, che sono un po' distratti. Vigili, quasi raddoppiate le multe, l'effetto dei due autovelox fissi. Abnorme l'aumento delle sanzioni, elevate per eccesso di velocità rispetto all'anno scorso. E vediamo qui i dati. Nel 2019 furono solo 124, le multe elevate per eccesso di velocità. Era difficile anche individuarle. Nel 2021 ci fu un lieve aumento a 157. E poi nel 2022 invece abbiamo l'aumento, l'esplosione 9.550. Veramente un aumento considerevole. Quindi fate attenzione, rispettate i limiti e non pagate multe che sono poi particolarmente onerose. E vediamo anche come il resto del Carlino tratta questo argomento. Lo tratta sotto un altro punto di vista, mettendo in luce tutte le altre attività rispetto al controllo sul traffico che fanno i vigili urbani. Ebbene, una di queste riguarda l'attività di controllo sull'edilizia. Mattone allegro, un boom di abusi. Anche qui sono state ritrovate, scoperte, delle deroghe ai regolamenti e alle norme. In dieci mesi già 17 denunce penali per abusi edilizi. Non sono costruzioni intere che vengono costruite senza permessi, ma sono così degli interventi un po' limitati, ma ugualmente sanzionabili. I dati dell'attività della polizia locale. La comandante Montagna dice in genere si tratta di strutture realizzate in aree agricole o di chiusure di tettoie che producono un aumento di volume. Quando si chiude un terrazzo, una tettoia, magari con delle mura, ovviamente si usufruisce di un ambiente in più. E questo senza i dovuti permessi non è possibile. Ben 40 sono stati controlli edilizi, di cui appunto 17 sono state le denunce penale per abusi nei primi dieci mesi del 2022. Un dato in crescita rispetto agli anni precedenti, dove le denunce erano non più di una decina. Questi gli esiti dei controlli che la polizia locale ha fatto nel territorio. E poi ci sono anche altri settori che impegnano i vigili urbani, riguardano il commercio, riguardano l'ambiente. Insomma, ci sono diversi compiti che impegnano la polizia locale. Un milione di euro in ballo. Il Comune sta a guardare. C'è una grossa opportunità per il Comune di Fano di usufruire di fondi da parte del Ministero della Transizione Ecologica. Ed è il Movimento 5 Stelle che suona la sveglia e dice, Comune di Fano, non perdere questa occasione, perché la transizione ecologica, proprio in questo momento, quando le fonti energetiche tradizionali hanno subito un aumento che va alle stelle, ebbene, passare alle fonti alternative che costano di meno, è un'opportunità che non si può perdere. E poi vediamo un pendolare dello shopping. Tenta un furto al King, ma qui siamo a Marotta. Restiamo sempre sul resto del Carlino. Era arrivato da Loreto per rubare un giubbotto da 300 euro, ma i suoi movimenti non sono passati inosservati. Sono stati allertati i carabinieri di Marotta che sono subito arrivati sul posto e lo hanno arrestato per tentato furto aggravato. Insomma, è stato scoperto. E restiamo a Fano per parlare di ferrovia. Vediamo questo titolo. L'anello ferroviario è strategico. Senza perderemo 460 milioni. È l'assessore alle infrastrutture della Regione Marche, Francesco Baldelli, che illustra i costi stimati in 25 anni in base a uno studio elaborato dall'Unione Trasporti. Per ogni euro speso sulla tratta Fabriano-Pergola-Urbino ne avremo 1,9 guadagnato sul territorio. Pensate, per ogni milioni di euro spese per l'attivazione dell'anello ferroviario Fabriano-Pergola-Urbino, un anello che ci metterebbe poi in contatto con la ferrovia che va a Roma, e sarebbe veramente una cosa molto importante, si avrebbe una ricaduta positiva sul territorio di 1,9 milione euro, mentre la mancata realizzazione dell'opera determinerebbe una perdita quantificabile per un periodo di 25 anni in 460 milioni. Sono soldi contanti, sono soldi che pesano sulle finanze degli enti della Regione e degli enti insomma del territorio. L'assessore regionale sintetizza così uno dei temi illustrati ieri mattina nella conferenza indetta tra Regione Marche e Camera di Commercio sulle infrastrutture e lo sviluppo che ha puntato i riflettori sull'impatto economico appunto di questa tratta. Una tratta veramente importante. E un'altra tratta invece importante è quella della strada delle barche. Strada delle barche i nuovi provvedimenti assunti dall'amministrazione comunale di Fano che ha stipulato una convenzione desta la soddisfazione della Confcommercio. E qui vediamo i rappresentanti di questa associazione di categoria. Abbiamo Bruno Ricciardelli che è nella foto a sinistra e abbiamo poi Vittorio Peli nella foto a destra. Confartigianato plaude al progetto della strada delle barche per la cui convenzione tra amministrazione comunale e regione dopo 15 anni di attesa pensate da 15 anni si parla di fare questa strada delle barche allora erano i tempi d'oro della cantieristica finalmente c'è stato un passo avanti e speriamo che si arrivi alla meta. Rivoluzione rifiuti ora servano tessere e app e qui siamo a San Costanzo dove l'ASET ha individuato questo comune per fare la prima sperimentazione dei cassonetti intelligenti ovvero gli utenti dovranno depositare i rifiuti servendosi di una tessera magnetica con la quale poi avranno anche benefici sulla bolletta. Entro fine anno tutto il territorio di San Costanzo avrà i cassonetti che sostituiranno le isole ecologiche saranno quelli di accesso controllato i conferimenti nei nuovi contenitori riguardano tutte le tipologie dei materiali tra l'umido secco carta plastica vetro e metalli quello che si trovano appunto nelle isole ecologiche di adesso la pagina di Urbino grazie all'UNESCO via i cavi del centro storico la città è nella lista dei siti del patrimonio lo è da diversi anni Urbino con la sua atmosfera di carattere rinascimentale del Cinquecento insomma grazie poi a questo personaggio fantastico che è il Duca Federico è veramente un elemento prezioso del patrimonio della umanità ed ora grazie a questa situazione Urbino ha anche dei fondi per curare la propria immagine e curare anche la conservazione dei propri beni ebbene avrà benefici di legge arrivano nuovi camminamenti e fondi all'Enel fondi all'Enel per interrare quei cavi che ora deturpano un po' l'aspetto di Urbino sono quei cavi che si trovano nelle facciate dei palazzi sono aspetti impropri che minano un po' l'estetica l'equilibrio bello classico di certi palazzi di tipo monumentale proprio in questi giorni si sta lavorando al camminamento che costituirà il nuovo Belvedere di Via Buozzi all'incrocio con Via del Popolo l'abbattimento della siepe di alcune settimane fa era propedeutico dice il giornale ed è un progetto che mira a creare un percorso pedonale che vada appunto da Porta Santa Lucia fino alla collina delle Vigne la prima parte era stata realizzata qualche mese fa già in via Don Menzoni e poi Urbino va alla mostra del turismo di Londra si tratta del World 3 Travel Market da Urbino ci va l'assessore Cioppi e quindi un'opera di promozione per quanto riguarda Urbino è conosciuta un po' in tutto il mondo grazie a Raffaello grazie al Duca Federico insomma nessuno arriva nella nostra provincia senza fare un salto ad Urbino insomma Fano è la base logistica Urbino è la meta delle visite dell'entroterra quelle più frequentate a questo punto vediamo anche un altro titolo che riguarda Urbino come capitale della cultura per Antonomasia la cultura è Pesaro ovviamente per il prossimo anno mentre Urbino lo è come presidio costante nel territorio e quindi i restauratori albanesi si formano nella città Ducale da Tirana a Scuteri verranno docenti per formarsi si rafforza così il rapporto tra la città Ducale e lo Stato che ha antichi legami appunto con la stessa città ad Apecchio ad Apecchio si parla di una persona che ha ingerito dei funghi venenosi mi raccomando siamo in autunno i funghi ci sono nei boschi ma chi li cerca deve essere un esperto per individuare se sono commestibili o no ebbene questa persona invece ha fatto un errore e ha subito un trappianto di fegato che gli ha salvato la vita per fortuna si tratta di Petru Varga Georg che a metà a ottobre aveva mangiato l'amanita phylloides proprio uno dei funghi più velenosi avevo poche ore di vita però si è trovato l'organo ancora in tempo quello del trappianto e ora sono qui vivo e felice ha dichiarato sono nato nei boschi della Transilvania ne ho mangiati a tonnellate di funghi però ho sbagliato una volta e basta una volta perché poi se si sbaglia veramente è una cosa fatale oggi alle 15 ci sarà l'ultimo saluto a filo il bambino il ragazzo di 18 anni che è deceduto in un incidente stradale mentre da Fermignano tornava a Fossombrone dopo aver trascosso una serata di festa la cerimonia funebre si terrà in Duomo a Fossombrone era un ragazzo raro pronto ad aiutare chiunque e poi a Fermignano si dà anche l'addio a Fabio Vitaletti aveva 72 anni per decenni è stato l'anima della Proloquolo il funerale oggi alle 14.30 in Duomo e a questo punto diamo un'occhiata anche alla pagina pesarese del resto del Carlino e vediamo come il giornale si occupi soprattutto vediamo un attimo ecco qua la prima pagina si occupi soprattutto della festa ancora che riguarda il nuovo campione del mondo delle moto Tappesaro Tavuglia che derby per Pecco doppia cittadinanza onoraria a Bagnaia Ricci e Paolucci si contendono ancora il campione di moto GP e poi faccia a faccia da paura si ritrova in giardino due stranieri in fuga dal Miralfiore uno mi ha preso a calci dice un residente ma apriamo subito il giornale per vedere di che cosa tratta nelle prime pagine ed ecco qui la festa per Bagnaia derby per Bagnaia dice il titolo due cittadinanza onoraria addirittura Paolucci Paolucci sbagliato Ricci stop le polemiche il sindaco di Pesaro l'importante è rafforzare il brand comune i motociclisti che visitano questo territorio non si fermano solo in città e poi la collega di Tavuglia invece il sindaco di Tavuglia dice bene che voglia lavorare insieme anche se non mi ha chiamato parla ovviamente di Ricci noi andiamo avanti con Chivasso e beh comunque anche occasioni di festa diventano occasioni di polemiche quando si tratta di contendersi un campione del genere di Bagnaia violenze e abusi psicologici sulle ginnaste lo prometto chi ha sbagliato pagherà e chi è che parla così è il presidente della federazione ginnastica d'Italia che è un fanese e Gerardo Tecchi lo vediamo qui nella fotografia qui abbiamo un'intervista che il Carlino fa a Gerardo presidente della federazione dopo la denuncia delle ex farfalle azzurre che hanno subito secondo loro dei trattamenti molto molto penalizzanti durante gli allenamenti per raggiungere poi quei livelli mondiali che ovviamente meritano le Olimpiadi bambini di colore fanno chiasso i vicini di casa lanciano le banane triste leggere ancora questi titoli quando c'è un razzismo conclamato oltre a quello latente purtroppo che sfocia e nelle parole di rimprovero nei confronti dei bambini solo per il colore delle loro pelle e qui è scoppiata una lite tra condomini che è sfociata nella reazione a fondo razziale pensate e il caso finisce in tribunale una coppia a processo urlavano di tutto bestie animali zingari nei confronti dei bambini ma i due imputati negano le accuse nei loro confronti e anche in questo caso sembra che si tirava in gioco le banane le bucce di banane addirittura a questi bambini e la mamma dei due piccoli di 11 e 16 anni all'epoca di fatti a sporgere denuncia i due imputati negono e qui dovrà il giudice decidere come sono andate le cose e quindi prendere i dovuti provvedimenti braccati al mirafiore qui vediamo il titolo che è stato richiamato in prima pagina gli piombano il giardino ne ho bloccato uno mi ha preso a calci qui vediamo Emanuele Cimini che mostra il punto in cui è avvenuto l'aggressione e i segni lasciati nel suo corpo dal calcio che è stato ricevuto è stato colpito al fianco con dei lividi che non si vedono bene ma insomma ci dovrebbero essere Emanuele Cimini di 49 anni vive in via Cimarosa vicino al parco Miralfiore si è ritrovato di fronte due stranieri che scappavano dai finanzieri c'era mia figlia in casa ha dichiarato avevo paura che volessero entrare e così sono intervenuto sono stato colpito al fianco ho i lividi insomma una aggressione papale papale mascherine irregolari assoluzioni per il presidente di Aspes Luca Pieri è stato scagionato alla fine di un processo per avere acquistato 550.000 dispositivi di protezione sarebbero le mascherine non a norma acquistate in Romagna ebbene il giudice lo ha dichiarato innocente a questo punto riprendiamo anzi il Corriere Adriatico l'abbiamo preso all'inizio quando abbiamo letto l'articolo che riguarda il consuntivo di attività dei vigili urbani ed ora riprendiamo le notizie e vediamo che il proprietario dell'opera della chiesetta della Luca che è stato tirato in ballo per salvare l'albero che gli cresce a fronte e che metterebbe in pericolo invece la chiesetta stessa dice la lapide e di 60 anni fa l'albero è pericolante e senza chiesa crollerà perché gli ambientalisti avevano detto non tagliate l'albero ma spostate la chiesa e invece il proprietario dice se io sposto la chiesa l'albero crolla e quindi bisogna trovare una convivenza tra questi due aspetti sono anche Bellini l'albero vicino alla chiesa sperando che l'albero non con le sue radici non mini le fondamente della chiesa come invece sta accadendo un altro articolo che riguarda Fano è una presa di posizione di Fratelli d'Italia fermate la nascita dell'ASP in attesa dei futuri ambiti Fratelli d'Italia chiede più partecipazione in vista della fusione tra gli ambiti di Fano e di Fossombrone c'è troppa foga si corre un po' troppo dicono Lucia Tarsi e Giuseppe Pierpaoli che sono i due consiglieri comunali di Fratelli d'Italia nell'affrontare i tornanti che conducono al traguardo dell'azienda di servizi alla persona la cosiddetta ASP destinata ad avvicennare l'ambito territoriale e sociale 6 insomma l'ambito sociale si trasforma in questa nuova entità insomma dicono prima di prendere delle decisioni come sta facendo l'assessore al welfare occorre coinvolgere meglio e di più le associazioni le cooperative le forze politiche ritenendo importante avviare un dibattito e anche soprattutto i sindacati a Fossombrone il Corriere Adriatico per quanto riguarda Fossombrone il Corriere Adriatico da ampio risalto purtroppo è un ritorno all'articolo all'incidente che ha decretato il decesso di Filippo Giovanelli il ragazzo di 18 anni appunto che è deceduto in un incidente stradale nell'ultimo fine settimana uno shock per i ragazzi del Cecchi il suo compagno di scuola lui frequentava appunto l'istituto agrario Cecchi a Pesaro ed è il messaggio del preside Rossini che in classe ieri ha ricordato il suo alunno la camera ardente a Fossombrone la salma di Filippo è stata composta nell'abitorio dell'ospedale di Fossombrone la camera ardente da ieri pomeriggio è stata meta ininterrotta di decine e decine di giovani rimasti rimasti lì appunto piangere il loro amico veramente una disgrazia una tragedia inenarrabile al via la strada delle barche c'è plauso degli operatori il comune di Fano approva la convenzione la confartigianato fate presto questa volta non fermatevi dicevo prima ero 15 anni che ci aspetta la realizzazione di questa infrastruttura ora dovrebbe essere la volta buona i soldi ci sono il progetto c'è operate lo dice anche la confartigianato e poi per quanto riguarda Senigallia invece si parla di ronde contro gli atti di vandalismo non si tratta di un provvedimento repressivo dice il sindaco Livetti soltanto una occasione per prevenire eventuali atti di vandalismo il documento di programmazione prevede infatti controlli sui giovani il sindaco il cancello nessuna repressione cos'è questo cancello si tratta del cancello posizionato dal comune in fondo alla scalinata di piazza Roma per evitare che possano accedere lì degli estranei quando gli uffici sono chiusi sporcando ebbene sono previsti ormai controlli serali notturni nei luoghi frequentati dai giovani per evitare episodi di vandalismo e sono i vigili che fanno queste ronde non sono dei privati bisogna sono le forze dell'ordine quelle deputate a mantenere anche l'ordine pubblico ed evitare questi episodi che danneggiano beni pubblici e danno un'immagine pessima dell'estetica della città e poi magari in quest'altra pagina vediamo che a Filatrano l'omaggio del gruppo Lardini a Leo Leo Moretti morto a 43 anni per un malore il figlio di una famosa ditta di abbigliamento oggi nella chiesa di San Francesco a Filatrano i funerali di Moretti stroncato da un malore a 43 anni vediamo anche che cosa pubblica il Corriere Adriatico sulla pagina di Pesaro abbiamo degli investimenti considerevoli nei palazzi della città soprattutto nel palazzo dell'ex intendenza di finanza c'è il conto alla rovescia per l'inizio delle cantiere a giorni l'esito sull'affidamento dei lavori ma per la partenza si attende la fine delle feste natalizie ed è veramente un considerevole investimento pari a 7 milioni di euro ma non è l'unico si parla anche della nuova questura nella caserma nella caserma del mondo nella caserma Cialdini le autorizzazioni vanno al rallenti per cui l'assessore Pozzi dice confermati gli accordi con il demanio ma sono i tempi ancora da definire e qui ancora si va un po' troppo a rilento mentre c'è qualcosa di nuovo invece per quanto riguarda la riqualificazione per Rocca Costanza un progetto diviso in due diverse fasi e nel pacchetto dei lavori di accordo con il demanio tra il comune appunto e il demanio c'è anche Rocca Costanza anche se l'iter che la riguarda procede più a rilento rispetto agli altri capitoli vediamo come il palazzo dell'ex intendenza di finanza va abbastanza celere mentre la nuova questura e la riqualificazione di piazza di Rocca Costanza invece vanno un po' a rilento su un generale stato di abbandono dei giardini della Rocca e di parte del fossato si cerca di correre ai ripari vegetazione incolta San Pietrini Rotti e una lentezza generale l'agenzia del demanio sta già valutando due stralci due stralci propedeutici per la Rocca il primo entro il 2023 con la possibilità di concludersi prima della cerimonia dei festeggiamenti per Pesaro capitale e l'altro invece per il 2025 quando si instaurerà il cantiere per portare l'archivio di Stato alla Rocca Costanza vediamo l'ultima notizia protezione civile sede al Miralfiore postazione nella serra degli Agrumi chiude il bar in questo luogo che nel periodo invernale sarà occupato dal distaccamento e cresce la sicurezza in questo luogo che ne ha molto bisogno chiediamo il giornale vi auguro vi ringrazio per l'asfolto vi auguro una buona giornata noi ci risentiamo domani alle 7 e per le notizie del giorno guardate occhio alla notizia il ETG di Fano TV questa sera alle ore 20 e 30 grazie per l'ascolto a risentirci le no digitale le no digitale o l'ascolto l'ascolto Grazie.